Ieri casualmente tra l'altro ero dal Ministro Minniti proprio per parlare nel nostro caso di sicurezza, di necessità di maggiori forze dell'ordine e per quanto riguarda il nuovo decreto per le nuove potenzialità, insomma i nuovi poteri che hanno i sindaci per alcune deleghe sulla sicurezza, il fatto di poter svincolare, questa era una richiesta di aiuto rispetto al Consiglio dei Ministri, svincolare le assunzioni della Polizia Municipale da quelle che sono le assunzioni dei dipendenti di tutti gli altri comparti del Comune. Perché pensiamo che sia un segnale che debba andare avanti rispetto a quello che è stato, insomma anche la stagnazione degli ultimi anni. Per quanto riguarda l'integrazione, noi stiamo collaborando con le associazioni, con le cooperative che ospitano sul nostro territorio, con il piano governativo, le persone in attesa di richiesta di asilo e stiamo facendo delle attività sul territorio che vanno da quei lavori semplici che adesso sono descritti e previsti anche nel decreto per l'integrazione, fatto sempre dal Ministero dell'Interno, quindi rispetto al spazzare le foglie, aiutare e collaborare per mantenere la città più pulita e quindi adesso partirà un importante lavoro per quanto riguarda le strade di aduzione alla città che qualcuno sporca veramente, ci sono degli incivili su cui bisognerebbe interrogarsi, ci sarà una collaborazione tra l'azienda dei rifiuti e queste persone volontarie in cerca di asilo.